Inizia adesso, una bella notizia, dopo le tante brutte che mi avete mandato, hanno liberato i due ragazzi, Vanessa e Greta, la vita in Siria un botto alle tempo fa, hanno liberato e però c'è stato un sacco di polemiche, qua dicono Salvini sta avvenenato, qua dicono che hanno speso 12 milioni di euro per liberarle, è vera sta storia degli schiattoli, non è vera? Che dicono i giornali? Chi è che ci informa adesso su sta cosa? È vero o non è vero che hanno dato i terroristi 12 milioni di euro? Comunque i ragazzi stanno bene, un po' denutrite, non sono state trattate bene perché logicamente non stavano in vacanza, sono state catturate, anzi che l'hanno rilasciate, siamo contenti di questo, poi vedremo se sti 12 milioni di euro è andata veramente come dice Salvini, chi lo sa?